7 settembre 2021. Come avrete capito voglio parlare dei candidati al Comune di Roma con Potere al Popolo. Come sapete Potere al Popolo sostiene Elisabetta Canitano come sindaca. Ora vi faccio vedere i candidati al Consiglio Comunale. Non leggerò tutti i nomi, comunque ve li faccio vedere. Giusto per chiarire, Francesco Schettino non è il comandante della Costa Concordia, è un omonimo. Anche perché il comandante della Costa Concordia ora sta in Bibbia. Sta in galera, giustamente. E spero che quel Francesco Schettino non comandi più nessuna nave, mentre questo Francesco Schettino dovrebbe essere un po' più serio. Comunque, io conosco Beatrice Gamberini ed Elisa Della Libera. Sì, penso di votare per Elisa Della Libera. Anche perché non è prevista la mia candidatura al Comune di Roma, cioè nel senso che questa volta io non sto precandidati. Mi candido al settimo municipio e anche al terzo, il settimo dove abito io e quindi al settimo municipio voterò per me. Tra l'altro, all'ultima riunione di Potere al Popolo ho conosciuto il candidato alla presidenza del settimo municipio. Si chiama Lorenzo, ma non ho capito il cognome. Comunque, lo leggerò nei prossimi giorni. Non so se sono uscite le liste dei candidati ai municipi. Spero che escano presto. Vabbè, voglio far vedere ancora una volta la mia maglietta. La vedete? Anzi, devo girare il telefono perché non ho capito come... Insomma, come girare... Eh, vabbè. Avete avuto quello che vuoi dire, no? Cioè, come usare gli obiettivi dall'altro lato. Vabbè. Penso che ho appare abbastanza. Per ora, chiedo qua. Potere al Popolo.